Ok, mi dicevo, vi presentiamo un altro pezzo nuovo, che anche questo vi ho provato giovedì. Noi siamo così, o tutto o niente. Storm. Si intitola Storms of Emotions. Questo è quello che mi diceva male. Storm. Noi siamo così, o tutto quello che mi diceva. Noi siamo così, o tutto quello che mi diceva. Grazie. Il nostro corso gratuito è per lo su vida La miglia www.mesmerciki.com Trivate con nome ma non ci vediamo se vuole non ci vediamo se vuole Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info